Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. Quest'oggi parliamo di Sovramonte con il sindaco Federico Dallatorre. Buonasera. Buonasera. Siamo negli ultimi settimane prima del voto, a Sovramonte ci sarà il rinnovo del Consiglio Comunale, ci saranno le elezioni amministrative in data che poi conosceremo. Io le chiedo in partenza un bilancio di questo percorso, di questi ultimi cinque anni, anzi direi anche di più. Beh, sta andando così, stiamo riportando la nave in porto dopo cinque anni. La mia esperienza di sindaco è ormai decennale, però con questa squadra, gran parte di questa squadra, abbiamo dato vento alle vele cinque anni fa e stiamo riportando la nave solidamente in porto, siamo soddisfatti perché grazie alle possibilità che abbiamo economiche possiamo guardare con fiducia al futuro. Sicuramente una cosa che non si riesce a far passare è il concetto che il Comune sta bene ma non riuscite ad essere veloci nella realizzazione delle opere. Sì, questo è vero, purtroppo teniamo presente vincoli sia di bilancio che anche se abbiamo tante risorse non possiamo spenderne più di quelle che ci è permesso per legge e poi sicuramente gli ultimi due anni aver avuto tre emergenze via l'alluvione di dicembre del 2020 e poi soprattutto questo anno e mezzo di pandemia che ha stravolto non solo il mondo sanitario ma ha stravolto anche gli uffici pubblici bloccando, si può dire tranquillamente, il sistema ha veramente rallentato tantissimo questo percorrere il mare. Siamo soddisfatti e lo dico senza vergognarmi perché molte opere stanno andando a conclusione e sono quelle famose opere emergenziali che per anni il Comune non era mai riuscito a realizzare per mancanza di fondi e finalmente le abbiamo portate a termine e vedi il collegamento della frazione di Zorzoi con la SR50 che quindi abbiamo fatto uscire il paese da un isolamento a nord, infatti ogni qualvolta ci fosse stato un problema di emergenza fosse successo nella frazione a nord avremmo avuto molti molti problemi. La conclusione, la palestra che sta andando a conclusione diventerà oltre che un edificio scolastico anche un edificio a norma sismica quindi di protezione civile che in questi momenti che vediamo diventa sicuramente molto ma molto importante il museo che aspettavamo da 30 anni, questo primo blocco di museo dell'uomo di Varrosna tutta la progettualità che abbiamo sul Monte Avena e la viabilità, gli allargamenti che aspettavamo da decenni per quanto riguarda il collegamento da Servo a Salzen e soprattutto poi la famosa realizzazione della pala rossa ci ha tenuti fermi di burocrazia dal maggio 2016, siamo arrivati a maggio 2021 a firmare la convenzione Sì, noi come comune ci siamo mossi sollecitando, si sa che quella convenzione aspettava a Veneto Strade alla Regione, all'ANAS e al Fondo Comune di Confine e alla provincia autonoma di Trento però guardate che è stata veramente una bella via crucis portare a quella firma lì perché siamo tanti enti che dovevano trovare un accordo l'abbiamo trovato e l'abbiamo trovato anche in più perché dai 20 milioni che erano previsti sono arrivati 25 cioè l'opera completa, la galleria più gli allargamenti per arrivare a Ponte Oltre arriveranno 25 milioni dopo io capisco, la gente quando legge hanno trovato l'accordo e il giorno dopo vorrebbe vedere l'opera realizzata l'Italia non è così, noi siamo il paese più bello del mondo però ci siamo incastrati in questi ultimi decenni con le nostre mani, con tutta una serie di legislazioni che ha veramente allungato le questioni burocratiche perché magari per, io penso alla palestra, per realizzare la palestra dove la stazione appaltante è la provincia autonoma di Trento quindi insomma una provincia che tutti osanano come la migliore di quelle italiane tra le province autonome eccetera è dal 2012 e abbiamo messo la prima pietra a novembre 2020 quindi ci sono voluti 8 anni per far partire un lavoro quindi 8 anni di carte per far partire un lavoro che se tutto va bene ecco, se tutto va bene ma il cantiere sta andando avanti velocemente dovrebbe completarsi fra 90 giorni quindi un anno, un anno e mezzo di lavori per 8 anni di burocrazia ecco, questo è purtroppo il sistema Italia che non funziona e il cittadino non va dall'onorevole o viene dal sindaco e giustamente vuole risposte e a proposito di progetti di lungo corso che fanno, insomma ci mettono un po' di tempo a maturare a sovramonte c'è la questione della RSA che di fatto è una struttura pronta però è proprio una struttura pronta, è pronta ancora da dicembre 2016 perché avevamo inaugurato con la nuova amministrazione questa struttura un progetto che parte molto ma molto indietro, parte ancora nel 2003 ok, tra la ricerca dei fondi, mettere insieme le progettazioni eccetera sembrava che la sfida più importante fosse quella della costruzione mentre la sfida più importante, mi sono reso conto io, che è quella della gestione perché una struttura di 30 posti letto non sta in piedi da sola altrimenti l'anziano che va dentro pagherebbe una cifra per far stare in piedi non sta per gli autosufficienti perché se ne stanno a casa il mondo è cambiato e anche le risorse che gli anziani hanno sono cambiate quindi noi abbiamo deciso di chiedere ancora vigente le due ULS visto che l'ULS di Feltre non aveva l'RSA per disabili di chiedere l'autorizzazione per i disabili, cosa che abbiamo avuto nel frattempo però le due ULS sono fuse e quindi adesso ci troviamo a avere un'RSA a Soramonte autorizzata per disabili, nuova di Zecca e altre, mi sembra sicuramente una, quella di Belluno per disabili ultimamente nel piano di zona ci hanno proposto e noi abbiamo accolto ben volentieri la questione di dire guardate la struttura potrebbe essere anche messa in funzione come per ospitare le persone che hanno disabilità psichica benissimo ho detto ma acceleriamo perché guardate che la gente, le persone vedono una struttura e mi scrivono su Facebook mi scrivono è una cattedrale nel deserto sì so io che il commento viene subito andiamo a averci un prosecco e ti viene da fare la battuta è una cattedrale nel deserto la sfida più grande è veramente quella di farla partire quella struttura e deve partire assolutamente perché lì ci sono soldi di tutti ci sono soldi di Sovramontini ci sono soldi dello Stato ci sono soldi della Regione e ci sono soldi anche delle province autonome non possiamo permetterci di fare una figuraccia ma non io sindaco che alla fine sono di passaggio tutto il sistema tutto il sistema ma lì c'era l'accordo con l'Ulss di Feltre giusto? sì adesso ne va fatto un altro con l'Ulss Dolomiti oppure quel documento quell'accordo può rimanere? allora rimane il concetto di R.E. autorizzata dalla Regione come R.S.A. disabili gravi e gravissimi ecco con la nuova direzione sia quella a seguito della fusione sia con la nuova direzione appena insediata insomma i mesi di primaverili siamo in stretto contatto per cercare di aprirla il più presto possibile non mettiamo poi un'altra problematica che sicuramente c'è anche in questione del personale sì non è che bastino due adette resistenza ma parlando invece di un altro argomento come dire che riguarda molto da vicino il territorio abbiamo toccato la tematica sociale o comunque sanitaria c'è anche quella produttiva cioè a Sovramonte c'è una nuova vivacità possiamo dire sotto il punto di vista dell'agricoltura sì io già da questi studi qualche periodo fa dissi feci l'esempio di un imprenditore giovane che si era messo a produrre piccoli frutti con le serre aveva fatto veramente un grande investimento ed era un simbolo di si può fare anche a Sovramonte azienda e dico ancora prendo un altro esempio perché veramente è un esempio che può far scuola anche in territorio della provincia una nuova azienda agricola giovane è partita nella borgata di Gorna dove questa azienda fa vino e c'è sempre stato non è che si sia inventato di fare il vino c'è sempre stato in passato quella zona coltivata a vino fa fagioli e fa erbe ufficinali ma il di più perché magari uno che sente la discussione di questa sera dice beh anche noi non so in giro per la provincia facciamo sì ma questa azienda agricola in qualche modo recupera un'intera frazione un'intera borgata cioè al di là delle abitazioni che sono dei privati eccetera ma tutto quello che ci c'è intorno che poteva crearsi il bosco vicino alla casa sta diventando invece un giardino un giardino che rende questo è un bel esempio nel senso che lo sappiamo in montagna si fa più fatica i prati e i terreni non sono pianeggianti quindi non si possono usare chissà quali macchinari quindi c'è un di più di fatica da metterci però se non se non diamo una mano a queste aziende che usano anche questi terreni magari non proprio in piano e soprattutto ci recuperano un paese perché vorrei vedere chi va a abitare in mezzo a un paese dove ti viene dentro la boscaglia o i prati incolti tu vai in un paese dove è tutto bello curato e quindi diventa veramente un esempio un esempio da seguire immagine e funzione con questi due concetti riusciamo a toccare tre argomenti ovvero la demolizione dell'albergo a Croce Daune la manutenzione delle strade perché insomma i turisti le utilizzano ma non solo dobbiamo sempre ricordarci dei residenti e poi lo sviluppo diciamo delle infrastrutture per chi si muove con la bice elettrica o insomma con mezzi elettrici sì in questo ultimo periodo ci siamo concentrati moltissimo sulla così valorizzazione del territorio e cosa voglio dire che sarà anche argomento della prossima programmazione ecco non è giusto che lo diga ma insomma lo sanno i cittadini l'ho già detto che io sarò disposto a fare altri cinque anni se la gente insomma lo vorrà ecco aspetta il popolo il voto ecco l'esempio della demolizione che stiamo portando avanti anzi che i privati stanno portando avanti in un progetto complessivo di valorizzazione del Monte Vena dell'albergo Monte Pavione a Croce Daune è un simbolo ma non è un simbolo che il turismo a Croce Daune è finito non lo dobbiamo guardare quel lato lì dobbiamo invece guardare il lato che il turismo è cambiato uno a Croce Daune non va più in un albergo 20 giorni un mese usa magari la baita infatti abbiamo una grande richiesta di baita in affitto allora dico attualmente a Croce Daune abbiamo due alberghi attivi ordinati che fanno il loro servizio lodevole e dico sempre sono imprenditori che hanno retto anche alla trasformazione turistica si sono adeguati gli altri due alberghi purtroppo sono andati in deperimento allora piuttosto di tenerli e nessuno viene a fare un albergo nuovo a Croce Daune piuttosto allora è meglio rivalorizzare la zona ecco perché noi con il comprensorio del Feltrino abbiamo detto di quell'area lì facciamo sparire il Monte Pavione e creiamo un bike sharing su 25-30 biciclette una zona d'appoggio che si possa da lì poi uno sale in Monte Avena o sale al rifugio dal piazza o scende invece nella parte bassa del comune dove si può andare a visitare il museo o si può andare a visitare le chiese che abbiamo un patrimonio artistico invidiabili per far questo allora il comprensorio del Feltrino recupera quest'area noi come comune insieme alla nostra azienda elettrica a CSM Primiero forniamo sia la ricarica per macchine elettriche a servo sia le colonine per la ricarica delle biciclette presso gli impianti sportivi a Soriva quindi per tutti i tre paesi della parte bassa a Croce Daune quindi vicino al bike sharing e a Faller in modo tale che quello che prende la bicicletta a Croce Daune dove ha la possibilità di averne di più può scendere e prenderne un'altra impianta sportiva e salire a Faller se dovessero finirsi le ricariche in un sistema che non è solo comunale perché il sistema delle biciclette elettriche con la nostra azienda fanno parte di un un service internazionale in modo tale che chi viene a un'app vede che c'è la colonina a Sovramonte c'è a Fiera di Primiero c'è a Malga a Vederna e quindi ha tutto un circolo non serve che noi facciamo di più c'è già meglio di così penso che dal punto di vista della valorizzazione cicloturistica non ci sia perché non possiamo pensare solo al comune di Sovramonte piccolo anche se siamo 50 km quadrati ma nel mondo siamo piccolini il sistema del cicloturismo ha bisogno veramente di una valorizzazione grande e ha detto bene il turismo passa anche per la viabilità senza viabilità non possiamo fare turismo non possiamo sognarci cioè il mondo è cambiato ma la gente che va a fare turismo vuole arrivarci con il SUV non vuole arrivarci con altri sistemi da antiguera noi abbiamo un buon rapporto e siamo anche fortunati che gran parte del patrimonio stradale di Sovramonte fa parte del mondo Veneto Strade abbiamo avuto sempre un buon rapporto con loro collaboriamo e abbiamo anche diversi interventi insieme sulla manutenzione straordinaria ci stanno facendo ottimi lavori è vero anche loro hanno il problema di vaia di quello che è capitato però insomma non ultimo stanno appaltando il tratto tra Servo e Salzen un allargamento di 500 mila euro che risolverà dei problemi la strada attualmente è a senso unico si può dire nel senso che c'è una corsia non ce la fanno due macchine a passare ed è un bel tratto insomma da sistemazione però c'è la parte dell'ordinario il turismo vuole una bella viabilità ma la vuole anche pulita e il problema dei pensionamenti degli operai di Veneto Strade il mancato turnover e mi dicono anche un problema di risorse per la manutenzione ordinaria creano un problema allora se Veneto Strade ha bisogno bisogna che ce lo faccia presente non ai comuni ma agli enti che quindi alla provincia alla regione in modo tale che possano se non ci sono più operai o se non possono assumere usiamo service esterni ma entro giugno le strade devono essere pulite il primo sfalcio deve essere fatto entro giugno perché altrimenti il turista che viene qui è vero la viabilità interessa a noi residenti ma se vogliamo avere anche un'economia turistica bisogna che facciamo in modo di avere anche delle strade pulite con questo argomento abbiamo purtroppo esaurito il tempo a nostra disposizione quindi ringraziamo il sindaco di Sovramonte Federico Dallatorre per essere stato con noi grazie buona serata buona continuazione grazie a tutti grazie a tutti